Velier Live, Fever 3 non ha bisogno di presentazioni, neanche Filippo Colombo, country manager d'Italia. Cosa presentate qui a questo super evento? Buongiorno a tutti, oggi presentiamo una piccola rivisitazione della nostra sorella Pompelmo. Abbiamo appena modificato la ricetta e da poco più di una ventina di giorni troviamo sul mercato la nuova ricetta. Abbiamo ascoltato un po' i feedback che sono arrivati dal mercato italiano e greco negli ultimi due anni, quindi siamo curiosi ora di farlo assaggiare un po' al pubblico presente qua al Velier Live. Nel successo di Velier in questi anni tanto è stato anche nello scovare Fever 3? Sì e viceversa, sono orgoglioso nel dire che siamo il primo mercato in Europa dopo UK, quindi questo è merito sicuramente grazie al lavoro che ha fatto Luca e tutte le persone che lavorano per la Velier. Speriamo di continuare così nei prossimi anni ovviamente.